La scheda in porta di studio consente di trasferire elementi nell'applicazione da qualsiasi origine, ad esempio da videocamere, fotocamere, stick flash e da posizioni su cloud o disco rigido. In questo capitolo mostreremo come eseguire l'importazione da una videocamera DV, un dispositivo analogico come un videoregistratore VHS e un DVD non protetto da copyright. Lo strumento in porta è utilizzabile con diversi dispositivi. Dischi rigidi, compresi dischi locali e unità esterne. Videocamere con registrazione su nastro, DVD o dischi rigidi interni. Fotocamere Webcam DVD e dischi Blu-ray Inoltre, Pinnacle può eseguire l'acquisizione da dispositivi quali Pinnacle Movie Box, che consentono di catturare materiale da dispositivi analogici meno recenti, come videoregistratori e lettori DVD. I dispositivi esterni devono semplicemente essere collegati al computer. Verranno rilevati automaticamente e saranno elencati nello strumento di importazione, in modo da offrire un facile accesso ai file multimediali. Per iniziare, eseguiamo l'acquisizione da una videocamera DV utilizzando il connettore FireWire IEEE1394. Dopo aver collegato il cavo, accendi la videocamera. Attendi 15 secondi, quindi fai clic sulla scheda Importa in studio. La videocamera sarà visualizzata nella prima riga dell'elenco di dispositivi. Qui puoi selezionare il disco rigido e la cartella in cui desideri acquisire le riprese. Se possibile, consigliamo di usare sempre un disco rigido idoneo per i video. Queste unità presentano in genere dimensioni e velocità superiori per poter gestire la quantità di dati necessaria per un'acquisizione video priva di interruzioni. Nella scheda Modo, dato che la sorgente è una videocamera DV, selezioniamo DV. Lasciamo attivato il rilevamento scene. Il rilevamento scene suddivide le riprese in sezioni più piccole durante l'acquisizione in base ai cambiamenti visibili nel materiale. In questo modo l'editing del filmato sarà molto più veloce. Selezioniamo ora Ferma a fine nastro. Questa opzione è utile per non dover osservare l'intero processo di acquisizione se il filmato è molto lungo. Passiamo ora alla denominazione del file. Usa un nome rappresentativo per il filmato. Io chiamerò il mio Dance. Mediante il controllo di trasporto del nastro della videocamera alla finestra di riproduzione in studio, individua il punto del nastro da cui desideri iniziare la registrazione. Quindi seleziona Start, Cattura. Una volta terminato, seleziona Stop, Cattura. Le riprese sono ora nella libreria, pronte per l'uso nei tuoi filmati. I dispositivi di acquisizione come Pinnacle Movie Box consentono di catturare materiali da dispositivi analogici meno recenti, quali videoregistratori e lettori DVD, che utilizzano i connettori di tipo RCA o S-Video mostrati qui. Questi dispositivi convertono i segnali analogici in segnali digitali necessari per il processo di creazione del filmato. Collega il dispositivo di acquisizione al computer mediante un cavo USB. Accendi il lettore e inizia la riproduzione del materiale per poter effettuare qualche regolazione. Seleziona la scheda Importa. Nella parte superiore vedrai il dispositivo di acquisizione. Seleziona Composito o S-Video a seconda del connettore che hai utilizzato. Fai clic qui per regolare i livelli audio e video. Assicurati di spostare verso l'alto il dispositivo di scorrimento del guadagno audio, finché l'audio non raggiunge le aree gialle e arancioni dei misuratori di picco. Seleziona il formato necessario per la tua area geografica. Decidi se apportare modifica alle impostazioni di Importa in o del modo come il rilevamento scene. Ora assegna un nome al file. Abituati a usare nomi significativi. Con l'aumentare del numero di filmati acquisiti nella libreria questa abitudine si rivelerà molto utile. Individua il punto del nastro da cui desideri iniziare la registrazione, quindi seleziona Start cattura in studio. Attendi 8-10 secondi affinché il computer avvii il processo di acquisizione. Una volta terminato, seleziona Stop cattura. Le riprese sono ora nella libreria, pronte per l'uso nei tuoi filmati. Se desideri importare riprese da un DVD o un disco Blu-ray non protetti da copyright, con Studio è semplicissimo. È sufficiente inserire DVD nell'unità ROM per DVD o Blu-ray. Fai clic sulla scheda Importa in studio. Nella finestra Importa da, seleziona la scheda DVD slash Blu-ray. Dopo alcuni istanti vedrai una finestra di riproduzione video in miniatura con un pulsante di riproduzione. Per vedere alcune riprese del disco, seleziona il pulsante di riproduzione. Usando il playhead sottostante, puoi passare a sezioni diverse del video. Se vengono visualizzate più miniature del disco, scegli i video che desideri acquisire selezionando la casella nell'angolo in alto a destra. Premi il pulsante Avvia importazione. Una volta completato il processo, le riprese saranno in un formato che potrai utilizzare per la realizzazione di filmati. Se utilizzi Studio per iPad, puoi inviare i tuoi progetti e tutti i file multimediali associati al software Studio sul PC, per continuare l'editing con funzionalità più avanzate. A questo scopo, usa innanzitutto l'opzione di condivisione con Studio per PC nell'app Studio per iPad, quindi scegli una delle opzioni di trasferimento. In questo caso, scegliamo Box. I tuoi progetti e file multimediali saranno inviati a Box, tutti in un unico file. In Studio, sul tuo PC, fai clic sul pulsante Importa. Quindi, seleziona Nuvola e scegli lo stesso provider. In questo caso, scegliamo nuovamente Box. Individua il tuo pacchetto di progetti, quindi scegli Avvia importazione. I file multimediali verranno importati e il tuo progetto sarà visualizzato nei progetti filmato all'interno della libreria. Fai doppio clic per aprirli e continuare l'editing. Salve, sono Paul Holtz di Class on Demand. In questo capitolo introduttivo, abbiamo esaminato brevemente la potenza creativa e la flessibilità di Pinnacle Studio 16. Se desideri ulteriori informazioni sulla creazione dei tuoi filmati con l'acclamata tecnologia Pinnacle, scelta da milioni di utenti in tutto il mondo, ordina la tua copia del corso completo di Class on Demand per Pinnacle Studio 16 sul sito web Pinnacle. A nome di Pinnacle e Class on Demand, ti ringrazio per l'interesse dimostrato.